Questa è una corsa aperta! All'inizio della curva conduce Maurice Tucam davanti a Storia Romana, Sebi Fly, Don Giustino, La Salli, Olympify, Milgaus, Goldrake, No Suspect e Injoite San. Poco prima dell'ingresso addirittura prosegue in vantaggio Maurice Tucam davanti a Storia Romana, Sebi Fly e Don Giustino. I cavalli entrano addirittura con Maurice Tucam in vantaggio davanti a Storia Romana, Sebi Fly, Don Giustino, Milgaus, Goldrake, No Suspect, Passa Sebi Fly davanti a Don Giustino, Storia Romana, No Suspect, Maurice Tucam, Milgaus e La Salli. Passa Don Giustino davanti a Sebi Fly, No Suspect, Storia Romana e La Salli. E facile Don Giustino davanti a No Suspect, Sebi Fly e Storia Romana. Eccolo Don Giustino che non sapeva vincere ma ha imparato anche a vincere nel Gaetano Angelotti Day, perché questa è veramente la giornata di Gaetano al quale va il nostro plauso incondizionato. Sta facendo un grandissimo lavoro da serio professionista con pochi 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 cavalli. Due su due per lui oggi e chissà che poi non diventino tre. Grazie a tutti.